Eccoci allora, benvenuti tutti e tutti al quinto incontro del ciclo Educazione, Costituzione e Cittadinanza, che è poi il seminario quasi conclusivo del ciclo di incontri. In realtà ci sarà un piccolo contenuto extra, approfitto di questa occasione per dirlo, perché c'erano alcuni colleghi che avevano partecipato alla pubblicazione del libro, che purtroppo per impegni lavorativi non riuscivano a partecipare, siccome mi dispiaceva che non ci fosse poi una loro testimonianza, gli ho proposto e alcuni già hanno accettato di registrare una loro breve presentazione in assenza di pubblico, che poi verrà montata in un video unico e caricata sul canale YouTube del Dipartimento come contenuto extra. Ecco, in modo che l'auspicio è che ci sia una testimonianza di tutti, insomma, adesso non ho ancora avuto conferma da parte di tutti, ma della maggior parte sì e quindi sicuramente il contenuto extra ci sarà, insomma. Ecco, fatte le debite premesse, passo subito a presentare i due ospiti di oggi, che sono Ilaria Malagrinò, dottore di ricerca e cultore della materia in bioetica e filosofia morale, già assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze della Formazione della nostra Università di Roma 3, e poi Edmondo Grassi, che è attualmente assegnista di ricerca in Sociologia Generale a Roma 3, nonché professore a contratto in Sociologia dei Processi Culturali per l'Università San Raffaele. Ora, esordisco sempre in questi incontri dicendo, ovviamente vi ringrazio di essere qui, esordisco sempre in questi incontri dicendo che ho cercato di appaiare gli interventi per affinità di materia. Ovviamente questo appaiamento alle volte è più forzato, alle volte meno. Sulla carta questo era quello che pariva forse il più forzato di tutti, no? Perché sono due materie che nella loro denominazione sembrano essere molto distanti. In realtà anche nella parte off-records, quindi quando ci siamo incontrati nella riunione, è subito emerso come in realtà è stato uno degli appaiamenti più azzeccati, perché i punti di contatto tra i nostri relatori sono davvero molti, anche proprio forse a livello, come dire, di approccio alle scienze. Quindi questo mi fa molto piacere. Gli accoppiamenti, gli accostamenti sono sempre stati fatti sulla base di una parola chiave, no? Per cui il primo incontro, la parola chiave era l'istruzione, nel secondo incontro era educazione, terzo incontro lavoro e competenze, quarto incontro insegnamento. Direi che la parola chiave di oggi, volendo a tutti i costi trovarne una, potrebbe essere tecnologia, nel senso che entrambi gli interventi di oggi toccano il tema della tecnologia, ovviamente non nella stessa misura, nel senso che nel caso dell'intervento di Edmondo, come dire, la tecnologia sta addirittura nel titolo e quindi assume un ruolo prevalente, nel caso di Ilaria Malagri, no, però è un intervento che, come dire, è di più ampio respiro rispetto alla tecnologia, ma si fa riferimento anche alla tecnologia, per esempio, mi riferisco qui chiaramente al contributo scritto, si fa riferimento al concetto anche di cittadinanza digitale, e quindi c'è questa comunanza, questa astratta riferibilità di entrambi gli interventi a questa parola chiave. Dopodiché, non voglio sottrarre ovviamente tempo ai nostri relatori, da Locandina la prima a parlare sarà la dottoressa Ilaria Malagrinò, che ci intrattiene con una relazione dal titolo Intimità e cittadinanza nella società confessionale, sottotitolo Una riflessione etica. A te, cara Ilaria, la parola. Grazie mille Giuliano, e grazie mille innanzitutto dell'invito e buonasera a tutti i partecipanti. Diciamo, vorrei iniziare dicendo questo, che potete interrompervi in qualsiasi momento per fare qualsiasi domanda, perché di fatto quello che vi presenterò oggi sarà un po' una chiacchierata, no? Su questo saggio scritto, ed è, come diceva Giuliano, praticamente il professor Serges, una riflessione ad ampio respiro, in cui l'ampio respiro appunto è l'etica e l'antropologia filosofica, che poi sono i miei campi di ricerca di fatto, no? Perché, diciamo, attualmente ci troviamo di fronte in contesto, diciamo, sociale un po' particolare, che è quello appunto della, io qui definisco società confessionale, però di fatto, se avrete modo appunto come immagino, di leggere il saggio, si capisce come in realtà la società confessionale faccia riferimento a tutto il mondo del web. Cioè, noi grazie a, oggi, grazie appunto alle nuove tecnologie mediatiche, ci troviamo a vivere in una, e anche ad esercitare la nostra cittadinanza appunto in un mondo particolare che è quello del web, che ha fatto cadere, o quantomeno, ha cambiato, in un certo senso, le regole della partecipazione sociale. E ha fatto, ovviamente, questo cambiare le regole della partecipazione sociale, fa sì che, diciamo, ha interrogato praticamente l'antropologia filosofica e ha stimolato l'antropologia filosofica quantomeno a cercare nuove risposte, le nuove sfide che questa società digitale le pone di nanti. Ora, chiaramente, diciamo, proprio perché stiamo vivendo, abbiamo vissuto l'anno scorso e comunque continuiamo a vivere in piena pandemia, chiaramente ci rendiamo conto e dobbiamo ringraziare anche le, appunto, le nuove tecnologie, anche oggi pomeriggio, se riusciamo a fare una lezione, appunto, se comunque continuiamo a fare una lezione, però chiaramente i modi della socialità sono cambiati. E, in particolare, quello che, diciamo, i sociologi hanno messo da prima in evidenza, come la società digitale, il mondo digitale, abbia fatto, in un certo senso, crollare i confini che ci sono, o almeno che c'erano prima, tra la dimensione pubblica e quella privata. Faccio subito un esempio per capirci, per capire a cosa giudono con questa caduta dei confini, tra il pubblico e il privato. Beh, adesso, per esempio, io sto tenendo una lezione pubblica, però, in casa mia, ecco, appunto, c'è questa commissione tra il privato della mia casa che si apre al pubblico. Io, non so adesso chi è presente, ma so che la lezione andrà addirittura ad essere caricata su YouTube, quindi arriverà al massimo della pubblicizzazione in un certo senso, no? Ora, questa commissione, cioè, questa caduta, diciamo, dei confini, ha fatto sì che in un certo senso si mettesse, venisse interrogato il concetto di intimità. Prima l'intimità, che cos'era? Che cosa si intendeva per intimità? Prima l'intimità veniva vista come, cioè, veniva legata alla spera comunque personale e alla spera della casa, comunque alla spera, diciamo, che bisognava proteggere, no? Invece, adesso si parla addirittura di intimità pubblica e, eh, di intimità pubblica perché? Perché tutti, in realtà, anche io sto condividendo un pezzo della mia intimità, appunto, della mia casa con voi in questo momento, ma questo processo era già iniziato, appunto, con le varie piattaforme digitali in cui, eh, i vari utenti, sto parlando di Facebook, sto parlando di Instagram e delle varie piattaforme in cui gli utenti avevano già iniziato a, appunto, a condividere e, e ad aprire, appunto, la propria intimità e a condividerla con i vari followers. Ora, e in effetti, proprio per questo, cioè, questa condivisione, addirittura, i social media, comunque, diciamo, incoraggiavano questa condivisione della propria intimità, tant'è che, eh, i nuovi modi di abitare, cioè, per il nuovo modo di abitare la rete è stato appunto coniata questa espressione di società confessionale, no? Questa apertura e questa condivisione estrema della propria, della propria intimità. Ora, se da una parte, però, eh, diciamo, vabbè, anche su questo, se su questo non avrò il tempo purtroppo di, eh, di soffermarmi, appunto, se da una parte, appunto, le nuove tecnologie mediatiche, che qui sembrano in un certo senso potenziare, appunto, come dire, favorire, eh, la volontà anche, eh, che intrinseca in un, o in ogni soggetto, quella che, quella appunto, di condividere la propria intimità, perché facilitano la condivisione della propria intimità, però, eh, gli studiosi si sono resi conto che in realtà manca qualcosa. Che cos'è che manca? intuitivamente, cioè, utilizzando, il linguaggio del senso comune, io adesso mi rifaccio ad un esempio, ma giusto per farvi capire, per arrivare al cuore della, della questione in maniera semplice, poi dopo mi riferisco, eh, faccio riferimento, farò riferimento ai, agli studiosi a cui mi sono rifatta, no? Però, per farvi un esempio, anche in questa, anche durante la pandemia, no? proprio gli strumenti tecnologici e mediatici che abbiamo a disposizione, quindi le varie piattaforme, anche, ehm, di lavoro, ma anche di proprio di condivisione, ci hanno permesso di essere vicini anche nella lontananza, anche nei vari periodi di lockdown che abbiamo avuto, che abbiamo avuto, però, si sente sempre da parte degli utenti, l'esigenza eh, di qualcos'altro, è come se mancasse qualche altra cosa, cioè, con questo che cosa si vuole dire? In letteratura si è fatto avanti questa necessità, cioè, se da una parte, appunto, grazie alle nuove tecnologie mediatiche abbiamo una maggiore condivisione dell'intimità, però manca sempre qualcosa, e che cos'è che manca? Cioè, questa mancanza ha fatto sì che, ehm, in un certo senso ha, eh, come dire, ehm, stimolato la curiosità dei ricercatori ad andare oltre e ad interrogarsi eh, sul che cos'è che manca, no? Proprio sul concetto anche di intimità, che cos'è l'intimità? E su questo, eh, ahimè, purtroppo, la filosofia, eh, manca, in un certo senso, di, manca di riferimenti bibliografici seri, perché il concetto di intimità è un concetto che si fa avanti nella storia della filosofia soltanto, eh, nella seconda metà, diciamo, nella seconda metà del Novecento, diventa, eh, famo, cool, in un certo senso, nella seconda metà del Novecento e appoggiandosi però la filosofia si appoggia proprio per il concetto di intimità agli studi di psicoanalisi a cui ovviamente anche io mi sono rifatta proprio perché gli studi di psicoanalisi e soprattutto la psicoanalisi di stampo continentale lacaniana, quindi, eh, di aria francese è andata avanti sul concetto di intimità e ha scoperto che, eh, gli esseri umani il concetto di intimità è un concetto tipico dell'umano e, eh, l'uomo ha intimità perché? Fondamentalmente perché l'uomo è un soggetto, cioè, che cosa significa che l'uomo è un soggetto? L'essere umano è, eh, un essere che dice io e, e che ad ogni, eh, diciamo, esperienza che vive mette l'io, cioè, lo vive in prima persona. Ora, l'intimità però, dov'è che nasce? E questa è, eh, in un certo senso la grande coperta, eh, se così possiamo dire, eh, più che scoperta, diciamo, è stata la psicanalisi, appunto, di stampo lacaniana, quindi, eh, queste ricerche hanno avuto inizio con Lacan, eh, ha avuto il merito di mettere in evidenza, appunto, come, eh, l'intimità, eh, nasca, l'intimità dell'uomo, quindi l'uomo inizia a dire io, l'intimità, quindi, sorge, praticamente, a partire da un'esperienza corporea. L'intimità, quindi, prima che il soggetto, quindi, prima che l'articolazione, della soggettività diventa, diventi, eh, una, diventi un predicato, quindi diventi, come dire, un soggetto unito ad un predicato e sedito ad un complemento, quindi, prima che diventi nominazione in realtà, il concetto di intimità è un concetto che nasce nella nostra affettività, chiamiamola così, no? Come vi dicevo, la filosofia manca di, eh, termini, eh, come dire, appropriati, anche perché ancora si sta cercando in un certo senso. Quindi, la nostra intimità nasce, prima ancora, della significanza e quindi, prima ancora del giudizio, eh, diciamo, cosciente e consapevole e razionale, la nostra intimità nasce in uno spazio corporeo che, Giulia Cristeva, che è una psicanalista, di stampo, appunto, lacaniana, che però è anche una filosofa ed è una linguista, quindi, eh, si occupa del problema della soggettività e di come nasce la soggettività e l'intimità, appunto, lei, eh, chiama, eh, appunto, cora, la cora, così, che sta la cora semiotica. Che cos'è la cora semiotica? Non vi spaventate, ovviamente, di questo termine che lei usa per farci comprendere. La cora semiotica non è altro che, appunto, eh, indica questo spazio corporeo che però è già simbolico in cui nasce, appunto, la dimensione dell'intimità. Cioè, l'intimità prima di diventare, appunto, di essere espressa coscientemente al soggetto, nasce con una tonalità affettiva ma che è già simbolica. Cioè, nasce, appunto, noi la sentiamo e però nel sentire sappiamo che già in essere racciso un valore e una cognizione anche se questo valore e questa cognizione avranno bisogno poi della razionalità per essere espresse. Ora, chiaramente, diciamo, questa affermazione ha una portata, come dire, rivoluzionaria sia nel campo, appunto, della, della, dell'antropologia e della filosofia. Perché? Perché questo e anche, ovviamente, della linguistica, eh? Perché, chiaramente, ci portano a fare, ad indagare proprio sulla dimensione della corporeità dell'uomo e ci fanno comprendere come la corporeità dell'uomo in realtà sia una corporeità del tutto particolare. Perché? Perché ha già dentro di sé una dimensione simbolica. Cioè, mentre, appunto, questa, questa affermazione, cioè questa scoperta ci porta, ci fa superare l'imbalzo totalmente in avanti tutto un pezzo, diciamo, di strea della filosofia che è seguita da Cartesio in poi, perché ci fanno comprendere come l'uomo l'essere umano in realtà non sia, come dire, spirito e corpo, cioè, non indagano più l'essere umano dal punto di vista della dualità, quindi del dualismo, ma ci fanno comprendere come la corporeità, cioè come l'essere umano, sia in realtà un'entità del tutto particolare che per indicare appunto l'essere umano e anche la corporeità dell'essere umano io non posso più utilizzare la terminologia appunto dualistica e la terminologia del passato, quindi la distinzione tra il corpo e lo spirito, perché? Perché la corporeità dell'uomo ed è tutto particolare rispetto alla corporeità, rispetto a qualsiasi corpo esteso come potrebbe essere appunto, non lo so, qualsiasi corpo materiale, cioè, anche il nostro corpo, che è una cosa mi sto riferendo, quindi, anche il nostro corpo ha un'estensione, un peso, una misura, una pressione, però è qualcosa di più, grazie allo spirito che lo incarna, cioè che lo vivifica, ma anche lo spirito dell'uomo è particolare, proprio perché lo spirito umano senza un corpo non potrebbe vivere, fondamentalmente, cioè non c'è un essere umano, come dire, che non abbia le due caratteristiche e questo però, anche se anche io in questo momento, diciamo, mi sto esprimendo ancora in un linguaggio dualista e se ci fosse sia Cristeva ma anche se ci fosse stato Lacan che ormai, come dire, è passata a miglior vita, mi avrebbero in questo momento cucilato, proprio sinceramente, parlando, però, appunto, le ricerche, di Lacan e anche di Cristeva ci portano ad andare oltre e a capire, ci fanno capire come la corporeità umana già sia simbolica pur avendo l'intimità, quindi l'intimità dell'uomo ha una dimensione, ha una base nella corporeità ed è già simbolica, cioè già esprime una dimensione valoriale anche se non è cosciente e non viene espresso in un giudizio di ragione. ora mi rendo conto che anche la terminologia che sto usando potrebbe essere complicata, per cui se avete da fare domande non vi preoccupate, come vi dicevo prima. Ora il problema, quindi se non ci sono domande andrà avanti, il problema della partecipazione, appunto, della partecipazione sociale alla digitalizzazione è proprio questo, cioè che la società, diciamo, la cosiddetta società confessionale, quindi il mondo digitale che ci porta, ci facilita in un certo senso la condivisione, no? e della nostra intimità in realtà racchiude un gap, cioè chiaramente per utilizzare il digitale e per esprimere la propria intimità nel mondo digitale si deve ricorrere ad una simbolizzazione e ad un'oggettivazione della nostra intimità, appunto, per esprimere un sentimento chiaramente lo devo far passare attraverso il linguaggio, attraverso dei simboli, quindi ad esempio su Facebook quando mi appare la schermata principale che mi dice appunto a cosa stai pensando oppure qual è il tuo stato d'animo io sono costretta a ricorrere appunto ad un emoticon o non so a scrivere appunto sono felice oppure sono triste oppure con rabbia o non so quale altro sentimento appunto, no? Però sono costretta a ricorrere ad una simbolicità. Il problema di questa simbolicità innanzitutto è che è estremamente oggettiva quindi come ben potete capire è uguale per tutti però non è detto proprio perché appunto la nostra intimità è caratterizzata appunto dall'identità non per nulla utilizzo nostra cioè l'intimità è sempre un qualcosa che nasce dall'io ed è caratterizzata dall'io quindi la nostra intimità la nostra ha bisogno del nome dell'intimità della persona che lo esprime e non sarà mai uguale all'intimità di un'altra persona questo che cosa significa questo implica che la digitalizzazione ci porta ad una oggettivazione che di default praticamente scardina cioè in un certo senso oggettiva la soggettività ora però la soggettività nell'oggettività nell'oggettivazione non ci sta totalmente proprio perché a parte la simbolicità ma le mancherebbe all'oggettività anche l'affettività con cui nasce l'intimità quindi ecco spiegato perché anche quando sentite adesso si sente appunto si sente le varie interviste dicendo sì è vero adesso che ne so tramite Teams tramite e non so tramite Zoom si possono fare si condivide di più con i propri parenti però certo un abbraccio di una persona cara è un'altra cosa perché perché chiaramente la corporeità cioè manca tutta la dimensione dell'affettività che è molto importante senza la quale l'essere umano non può non può vivere appunto la dimensione dell'affettività ora il problema diciamo della digitalizzazione comunque della società mediatica in cui ci troviamo a vivere è appunto questo cioè diciamo da una parte bisogna riconoscere i meriti che la digitalizzazione i meriti dubbi la velocità il fatto che ci connette il fatto che comunque abbatte anche le difficoltà spazio-temporali che c'erano in precedenza però attenzione che non ci dobbiamo dimenticare appunto che la nostra umanità che cosa significa la nostra umanità e di cosa la nostra umanità ha bisogno perché questo potrebbe portare diciamo chiaramente se io tolgo all'essere umano una parte della propria umanità faccio violenza all'essere umano la violenza chiaramente indica meno azione ed indica chiaramente come dire dei disagi può provocare comunque dei disagi molto forti a livello psicologico anche nelle persone anche appunto nelle persone e chiaramente anche a livello educativo non devo dimenticare questo aspetto perché fa parte anche dell'educazione delle nuove generazioni ora Giuliano io avrei finito qui io terminerei qui non so se ci sono delle domande non so grazie mille Ilaria guarda sulle domande molto probabilmente siccome alcuni hanno lezione alle 15 preferiscono concentrarle dopo in modo da non rischiare poi che l'intervento di Edmondo non te lo possano sentire solo a sì sì perfetto perfetto io se sono i capi li avrei finito quindi chiuderei qui per non confondere le idee perfetto non ce l'avresti ogni caso confusa anzi ti ringrazio per la tua relazione anche perché anche se come dire hai cercato chiaramente di semplificare per avvicinarti a un tono divulgativo insomma è una relazione di livello alto in cui hai toccato temi molto profondi anche molto divisivi no e che e che poi personalmente mi mi interessano anche particolarmente perché sono tutti temi come dire di frontiera mi mi viene a mente una cosa quando hai parlato della caduta dei confini tra pubblico e privato hai detto faccio lezioni da casa mia per un'università pubblica per un video che poi finisce su youtube cioè c'è un altro elemento che è interessante secondo me da osservare che noi ci stiamo parlando tramite la piattaforma microsoft teams che è una piattaforma inopinatamente privata e la verità anche se io non sono come dire propriamente un liberista la verità è che in questo contesto pandemico il pubblico è completamente dipendente dal privato cioè se quando ci hanno chiusi in casa non ci fosse stato qualcuno che precedentemente aveva inventato skype zoom teams meet eccetera noi non avremmo potuto fare nulla e guardate che non è solo le lezioni universitarie o scolastiche gli incontri tra capi di stato e capi di governo i processi in in tribunale cioè il pubblico avrebbe smesso di funzionare senza le piattaforme private questa è una cosa che deve farci riflettere perché da un lato ci dà l'idea di come anche il privato possa giocare un ruolo fondamentale nella società se orientato a certe finalità dall'altro c'è un interrogativo che al contempo politico economico filosofico e quant'altro è un bene che il pubblico sia dipendente dal privato perché questo è dipendente dal privato poi l'altra sollecitazione che mi hai diciamo hai solleticato le mie corde da costituzionalista in questo caso perché il concetto di intimità è un concetto che ha un importante rilievo anche sul piano giuridico e non è un caso che il primo titolo della costituzione in cui si elencano le libertà fondamentali si apra con tre diritti che sono decisamente legati al concetto di intimità ora non vorrei fare come quel nostro parlamentare che qualche tempo fa in un dibattito pubblico ha detto il diritto al lavoro è più importante che il diritto alla salute perché il diritto al lavoro sta nell'articolo 1 mentre il diritto alla salute sta nell'articolo 32 quindi è trentaduesimo in classifica perché vabbè questo purtroppo è il problema di tutti noi che svolgiamo attività accademica quando ci capita di sentire parlare qualche politico delle nostre materie nel migliore dei casi ci sanguinano le orecchie penso a cosa stanno passando in questo periodo i virologi tanto per fare un esempio no però è significativo primo articolo del primo titolo articolo 13 la libertà personale è inviolabile la libertà personale storicamente nasce come libertà dagli arresti ma in realtà oramai sono tutti concordi sul fatto che è un concetto anche filosofico molto più ampio articolo 14 il domicilio è inviolabile altra sfera tipica dell'intimità articolo 15 la libertà e la seretezza della corrispondenza di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili e poi dopo ci sono le libertà relative invece a a contesti in cui l'essere umano esce dalla sua intimità e si esprime in in contesti sociali per cui libertà di circolazione articolo 16 libertà di riunione il 17 libertà di associazione il 18 manifestazione del pensiero eccetera e questa successione logica fa da pandanco l'articolo 2 che è proprio l'articolo 2 lì come dire c'è un motivo per il quale è stato messo prima degli altri perché sono le cosiddette norme generali cioè le norme che informano tutta la costituzione dove c'è scritto che la repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali intuitivamente il costituente ha messo prima sia come singolo anche lì è un riconoscimento come dire della particolare importanza secondo me della sfera dell'intimità dopodiché ci sono aspetti in cui l'importanza dell'intimità fatica a fermarsi tu hai detto a un certo punto che l'intimità può essere intesa in senso come dire approssimativo come affettività c'è tutto un dibattito per esempio sul fatto che ai detenuti possa essere concesso il diritto all'affettività che molti negano che sia un diritto costituzionale nonostante come ho sottolineato poco fa in realtà l'intimità anche se la parola non c'è mai ma riveste un ruolo importante nell'ordinamento costituzionale e poi ci sono ovviamente problematiche legate all'aggiornamento perché oggi noi parliamo tanto di protezione ai dati personali privacy diritto alla riservatezza diritto alla vita privata ora chiaramente nel 48 se era fatta la costituzione tutte queste cose erano impensabili il concetto di dato personale noi facciamo discendere con qualche forzatura tutti questi diritti dall'articolo 15 che è quello che dicevo prima sulla libertà e la serenità della corrispondenza fa un po' tenerezza nel senso che oggi la corrispondenza è un aspetto quasi marginale direi del diritto alla riserva detta soprattutto la corrispondenza come la intendevano loro cioè lettere spedite che arrivano dopo una settimana voglio dire oggi la la forma di corrispondenza più più diffusa è l'email anche lì il contenuto dell'email possiamo anche dire che l'articolo 15 si applica e che la segretezza della corrispondenza è inviolabile ma passa passa sempre da privati no quindi voglio dire è è inviolabile ma è sempre intrinsecamente violata nel senso che è proprio questo il punto dopodiché e così passo invece la parola a Edmondo a un certo punto ti ho detto i modi della socialità sono cambiati non so se tu avevi già avuto l'idea di questa ricerca prima della della pandemia perché in realtà erano già cambiati da prima ma sicuramente la pandemia noi oggi siamo qui siamo tre abbiamo scritto un libro insieme ci vediamo oggi per la prima volta e probabilmente avremmo difficoltà a riconoscerci se ci incontrassimo per strada no e dopodiché questo mi dà un assist perfetto perché il titolo dell'incontro della relazione di Edmondo invece tecnologie artificiali è covid-19 quindi come dire il riferimento alla pandemia è quanto mai esplicito e non vedo l'ora di sentire che cosa ci dice il nostro stimato ospite salve a tutte e a tutti e grazie a Giuliano per questa occasione come indicato chiaramente il titolo è molto molto esplicito dal lato va chiaramente a toccare quello che è il concetto di tecnologia tecnologia nella sua massima estensione in quello che è proprio il dialogo che l'essere umano stabilisce che la persona stabilisce con la tecnica quindi con quella che è un'arte produttiva un qualcosa di poetico qualcosa che effettivamente l'essere umano produce per poter esistere per poter vivere per poter abitare questo pianeta dall'altro vi ha un riferimento chiaro covid-19 a quella che è la pandemia che attualmente oramai da più di un anno stiamo vivendo parto da in realtà adesso da delle suggestioni che sono venute sia dell'area che da Giuliano proprio perché parlando di pubblico e di privato si viene ad indicare come attualmente noi possiamo interagire tra di noi tramite quelle che vengono chiamate le cinque grandi sorelle e cioè parliamo di facebook di amazon di google di microsoft e di apple perché grazie alle loro strumentazioni grazie ai loro processi di ricerca grazie a quelli che sono dei dispositivi che hanno messo a disposizione sia da un punto di vista hardware che software noi abbiamo vissuto questo momento pandemico con un approccio molto differente cercherò all'interno insomma di questo breve dialogo spero che sia un rapporto poi dialogico tra tutte e tutti noi di andare ad indicare a grandi linee chiaramente quello che ho indicato nel contributo che spero abbiate già letto quindi non voglio soffermarmi troppo su questi aspetti ma casomai andare a navigare un po' di più su quelle che sono le rilevanze rispetto proprio al concetto di individualità di biotecnologie e di sorveglianza questo perché credo che attualmente quello che abbiamo un po' esperito in questo anno è stata la possibilità di avere due tipologie di finestre a nostra disposizione da un lato era quella fisica di un appartamento di una casa pensiamo al terrazzo condominiale dall'altra invece era la cosiddetta finestra dei nostri dispositivi dei nostri schermi un po' cosa a richiamare quella che è un approccio etnografico alla Cardano questo proprio perché utilizzare una visione da un punto di vista sia teorico che semi-applicativo bisogna andare a concettualizzare come in realtà quello che spesso viene definito come un controllo sociale di matrice artificiale di matrice digitale in realtà diviene una sorta di autocontrollo consolidato cioè qualcosa che oramai noi non possiamo e non vogliamo mettere in discussione si tratta effettivamente di quella che è una vera e propria rottura di un paradigma di un modello culturale simbolico che probabilmente anche durante questo contesto pandemico è riuscito a strutturare o comunque è riuscito a donare un'altra prospettiva rispetto a quello che è un'applicazione di principi etici o comunque di una morale collettiva condivisa proprio perché rifacendomi un po' il concetto di pubblico e di privato mi viene in mente come Canetti indicava che il concetto di segreto era in realtà politicamente qualcosa era uno strumento era una vera e propria arma coercitiva da utilizzare contro i propri avversari ad oggi invece quello che accade è la spinta del soggetto quindi della persona o comunque dell'utente di liberarsi del concetto di segreto cioè di essere autoproduttori di tutte quelle che sono le proprie informazioni questo perché anche all'interno del concetto d'empre del rimpallo tra pubblico e privato nel momento in cui pensiamo che i nostri dispositivi o comunque quelle che sono applicazioni sono gratuite rientra la narrazione invece che quello che noi stiamo vendendo è il nostro sé la nostra identità il nostro essere proprio perché viviamo e qui riprendo anche un po' gli studi che sono stati condotti da Cristeva nella contemporaneità avviene una vera e propria quasi desoggettivizzazione del soggetto che corrisponde a quella che è una destrutturazione dell'identità personale questo perché molte volte nell'utilizzo di determinati dispositivi di determinati social di determinate applicazioni selezioniamo quale parte di noi mettere a nudo o addirittura la costruiamo la costruiamo in un altro modello secondo altre prospettive molte volte non ci rendiamo conto che queste direttive queste traiettorie questi binari ci vengono in realtà in qualche modo autoindotti da quello che è un algoritmo intelligente che mette in comunicazione non solo le nostre scelte ma anche le scelte delle persone che noi maggiormente frequentiamo che maggiormente contattiamo tramite i nostri dispositivi questo per dirvi che ad esempio anche la narrazione che spesso viene data del digital home assistant o del proprio smartphone che ci ascolta sempre in realtà non è così cioè molte volte per farvi un esempio pratico se in questo momento dovessi parlare di il nuovo modello di computer della HP non è che il mio cellulare automaticamente mi sta ascoltando e arriverà un avviso di pubblicità o di qualche altro tipo nella mia email in realtà sta mettendo in comunicazione probabilmente una mia ricerca personale il fatto che io abbia mandato un'email ad un mio amico per indicare che mi piace quel modello di computer e altri elementi che automaticamente tendono proprio a costituire a costruire il nostro alter ego digitale che man mano come afferma ad esempio anche il filosofo di origine coreana Byung Chul Han siamo proiettati verso quella che è una vera e propria psicopolitica cioè se da Comte partiamo con un concetto di biocrazia quindi di una società condotta secondo un modello scientifico organizzativo arriviamo alla biopolitica di Foucault quindi al dominio sul corpo del soggetto con Anna arriviamo effettivamente a quello che è il concetto di sorveglianza del capitalismo della sorveglianza che troviamo in realtà in modo molto più esteso anche proposto da Shoshanna Zubov quindi effettivamente viviamo in un contesto che è quello che da Kevin Kelly viene definito come tecnium quindi una sorta di tecnosfera ma ancora meglio viene definito dal filosofo Floridi come on life e cioè andiamo a perdere totalmente quelli che sono i concetti esposti anche dalla collega di tempo e di spazio quindi tramite l'utilizzo di dispositivi di questo tipo in particolar modo delle intelligenze artificiali l'essere umano è come se avesse scardinato il concetto stesso di antropocentrismo e avesse permesso per la prima volta ad una tecnologia sempre chiaramente di matrice umana di acquisire una valenza di attore all'interno della nostra società questo perché il dato non deve essere considerato solo come un elemento quantificante quindi non vi sto menzionando quello che è il cosiddetto quantified self quindi andare a statisticamente declinare una persona proprio perché anche secondo le ricerche di Rebecca Limov attraverso questi dati se analizzati nel modo più corretto possibile noi possiamo andare a conoscere ed esperire anche quelle che sono paure proiezioni interessi del soggetto quindi a descriverne in realtà anche un impatto morale un impatto personale un impatto proprio più intimo del soggetto quello che è accaduto chiaramente con il periodo pandemico è stato il diciamo la necessità di ultra accelerare quello che è un processo tecnologico che già di per sé ha una curva di progressione molto molto più elevata rispetto a quella invece dello sviluppo del soggetto umano quindi effettivamente ci siamo ritrovati in un momento in cui un elemento e anche qui dobbiamo considerare il virus SARS-CoV-2 come un vero e proprio attore sociale quindi andare a considerare anche un'altra prospettiva come un ente per così dire alieno passatemelo nel termine latino quindi estraneo straniero abbia intaccato il nostro modello capitalistico e in qualche modo è riuscito a scardinarlo in alcune delle sue chiaramente più propaggini o delle sue manifestazioni questo per dirvi insomma come queste tecnologie abbiano oramai ad oggi un peso totalmente quotidiano proprio di riflesso del sé se non di costruzione del sé questo per andare a indicare quindi come il concetto stesso di intelligenza artificiale in cui parliamo di un algoritmo intelligente scritto effettivamente in modo alfanumerico da un soggetto umano in realtà non va altro che a instaurare un rapporto di scambio con la persona e soprattutto va a a stabilire un rapporto che viene definito retroagente cioè non termina la sua azione su di noi nel momento in cui noi decidiamo di chiudere un dispositivo ma proprio in quel momento ha la capacità di continuare a produrre dei dati su noi stessi scambiandoli con altri dispositivi questo proprio perché per andare a centrare alcuni elementi e poi entrare in esempi pratici l'utilizzo stesso di quelli che sono definiti big data chiaramente do per scontato che sappiate di cosa stiamo parlando portano chiaramente a delle finalità delle finalità che comprendono delle specifiche dinamiche umane che sono quella dell'esposizione nella misura in cui si analizzano elementi sia statistici ma come vi dicevo emozionali sentimentali capaci di donare una visione del sentire del soggetto quindi non solo di andare a declinarne una scheda pratica ma anche intima di interazione come secondo punto con l'altro quindi con un altro soggetto ma anche con l'ambiente circostante proprio perché in questo modo è possibile andare a stabilire tutta quella serie di traiettorie delle reti sociali che un soggetto applica nel suo agire collettivo in po' quella che è la sua rappresentazione nella quotidianità come indicava già Goffman fino al terzo elemento che è quello dell'utilizzo stesso di questi dispositivi quindi dalla semplice registrazione di dati sensibili ai parametri biometrici sino a effettivamente il modo in cui noi decidiamo di comunicare quindi il linguaggio la formazione della parola il modo in cui scriviamo il modo in cui interagiamo il modo in cui abbiamo deciso di utilizzare i nostri sensi all'interno quindi di questo grande contesto l'intento del contributo nel volume ha voluto focalizzare maggiormente l'attenzione su quelle che erano e che sono state inizialmente degli strumenti di controllo della pandemia e quindi vedete qui come ritornano anche il concetto di pubblico di privato di sorveglianza di controllo un piccolo inciso io sono un tecnofilo nel senso che credo nella potenzialità della tecnologia nel progresso della tecnologia quello che probabilmente ad oggi manca è sicuramente un'educazione ed un'etica di tali di tale mondo di tali elementi un po' come insomma mi definirei quasi un protopista cioè colui che abbraccia il progresso in maniera come dire incrementale sicuramente questo per dirvi insomma come ci siamo ritrovati nel contesto in cui diversi stati a seconda anche della loro ordinamento politico del modo in cui decretano e attuano e adottano diritti del soggetto hanno deciso di applicare quelle che sono delle app di tracciamento pensiamo ad esempio uno dei casi sicuramente più noto è stata la Cina la Cina già di per sé comunque è uno Stato che come sapete ha quasi da sempre mappato in qualche modo comunque controllato i propri soggetti quindi i propri cittadini la cittadinanza attiva questo avveniva già in passato con la scelta da parte proprio dichiarata del governo cinese di quella che era una circolare governativa attraverso la quale venivano istituiti le figure degli informatori si trattava effettivamente in ogni quartiere di donare un lavoro di donare un ruolo ad un cittadino ad una cittadina e di andare in giro proprio con un diario con un quaderno e una penna e annotare tutto quello che facevano i propri vicini di casa uno sviluppo ulteriore soprattutto nelle zone del Guangdong dello Shandong quindi della fascia maggiormente popolata e maggiormente investita dallo sviluppo tecnologico è stato quello di andare a sviluppare attraverso anche Alipay Alibaba quella che effettivamente era una applicazione che tracciava il cittadino e questo già da prima della pandemia quindi parliamo di un contesto in cui non eravamo nell'emergenza pandemica andava a tracciare la cittadinanza nelle sue azioni inizialmente era per un rating non so se avete mai visto Black Mirror e c'è un episodio in cui ogni singolo cittadino e cittadina dà un voto ai propri conoscenti e così un po' quello che accadeva in Cina cioè vi era la possibilità di andare a votare davvero a dare un rating vero e proprio ad un'altra persona questi elementi poi sono stati amplificati perché con la pandemia oltre chiaramente ad un monitoraggio che andava ad indicare attraverso un display colorato il proprio status andava ad escludere il soggetto dalla possibilità di accedere fisicamente a determinati uffici di accedere a determinati servizi così come a mezzi di trasporto questi aspetti poi sono stati addirittura in un modo ancora più pervasivo sviluppati tramite l'utilizzo di droni quindi droni che effettivamente volavano sulla cittadinanza nel momento in cui un soggetto ad esempio usciva ipoteticamente da una quarantena il drone iniziava a puntarlo iniziava a seguirlo iniziava a tracciarlo quindi a dare effettivamente sul tessuto sociale entrare a far parte di una comunicazione con la gente umano quindi come la parte tecnologica si effettivamente nesta totalmente in quella umana anche se così non sembrava essere possibile insomma questo per dire come è accaduto nel contesto cinese ad esempio nel contesto della Corea del Sud invece un paese che già di per sé era molto ed è molto più aperto alle tecnologie e c'è da dire da sottolineare come la popolazione della Corea del Sud sia una popolazione che ha un'altissima alfabetizzazione digitale hanno accettato tranquillamente l'utilizzo di quest'app di tracciamento ogni chiaramente per ogni stato vi è una diversa denominazione una diversa produzione stiamo parlando in alcuni casi di privati in altri casi invece di antipubblici a differenza però della Cina quello che è accaduto ad esempio nella Corea del Sud è che veniva ad esempio escluso il riconoscimento facciale dei soggetti quindi veniva effettivamente già tolta una parte di quella che è il riconoscimento biometrico di una persona in più tramite ad esempio l'utilizzo di queste applicazioni dato che la Corea in passato aveva subito precedenti pandemie anche se di minore intensità sono riusciti ad agire in modo costante verso quella che è stata la possibilità di non chiudere determinate strutture determinati servizi fino ad arrivare ad esempio al caso italiano di Muni che come sapete inizialmente c'è stata l'enorme di Atriba anche a causa delle fake news di ci ruberanno i dati sapranno tutto di me scopriranno qualsiasi mio segreto quando in realtà i Muni si basava effettivamente su un dispositivo molto differente sul riconoscimento dei log dell'ID del soggetto numerico e in più si basava su una struttura bluetooth ora chiaramente non voglio andarvi a spiegare quelli che sono questi aspetti ma andando a chiudere quelli che ho definito anche nodi di riflessione sono come con l'osservazione dei casi esposti effettivamente emerge che il tracciamento che è avvenuto durante la pandemia tramite lo smartphone può divenire innanzitutto potenzialmente poteva essere uno dei mezzi che acquisendo gli eventi di prossimità può ottenere ottimi risultati di controllo anche se così non è stato fatto perché dovete tener conto che bisognerebbe almeno avere il 70% delle installazioni sul territorio ad esempio nazionale parlando dell'Italia mentre per quanto concerne la preoccupazione relativa alla riservatezza dei metadati che è legata anche poi all'uso di tutti quelli che sono ipoteticamente dati che noi definiamo anonimi o dati aggregati e anche qui si tratta di differenze specifiche all'interno dei nostri settori di studio quindi legati anche alle nostre identità bisognerebbe avere per così dire la certezza di quale sia il gestore dei server quindi dove finiscono fisicamente questi dati alla fine insomma questo è perché all'interno di un contesto globale di una società che oramai non ha più confini politica comunicazione l'utilizzo da parte di tutti noi di questo di questi dispositivi ha effettivamente cambiato il nostro modo di approcciarci e per concludere quello che è la presenza dell'intelligenza artificiale come effettivamente strumento poi di connessione di tutto quello che adesso ho dovuto esporre per sommi capi assorge sempre di più ad uno strumento di ausilio e di collaborazione chiaramente incidendo in modo analitico e anche pervasivo rispetto a quello che è il BIOS della persona l'intento conclusivo è sicuramente quello di andare a costituire quella che è una sorta di filosofia morale dei soggetti così come della propria tecnologia per condurre verso valutazioni più oggettive contribuire chiaramente allo studio dei rapporti umani e della natura umana proprio perché si tratta di tecnologie che possono permetterci di avere altre prospettive e di avere altri limiti che normalmente non avremmo mai potuto superare e sicuramente andare a incidere anche su quello che è la percezione dell'ambiente delle disuguaglianze e andare in qualche modo se studiati ed utilizzati correttamente a strutturare una reciproca collaborazione tra persona e macchina grazie mille grazie a te per questa interessantissima relazione che tocca poi dei temi che a me interessano particolarmente sia sul piano scientifico che sul piano ricreativo perché ha citato Black Mirror io sono un grande appassionato di serie tv a tema diciamo così cibernetico specie se di stampo distopico o post apocalittico quindi come dire ti ho particolarmente apprezzato il tuo riferimento anche la scelta adesso mi vedete come indicavo poc'anzi il fatto di aver scelto questo sfondo è dovuto proprio forse anche quello che diceva andare a coprire un po' la mia privacy perché non sono nella casa dove vivo abitualmente e quindi ho scelto uno sfondo di questo tipo che poi richiama quello che è Blade Runner di Ridley Spot una pietra miliare della cinematografia ma soprattutto di questo filone molto interessante insomma se le persone che ci ascoltano non l'hanno visto lo consiglio forse addirittura è il capostipite perché prima di Blade Runner c'era stato pochino abbiamo avuto 2001 disse nello spazio di Kubrick giusto e poi ancora prima in realtà Metropolis di Fritz Lang come no quindi come no arriviamo al bianco e nero sì 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 esatto quindi comunque poco insomma dicevi tu giustamente serve educazione ora chiaramente educazione è una delle parole chiave di questi seminari ed è una parola sulla quale ci siamo molto soffermati specialmente nel nel primo incontro anche interrogandoci era il mio tema su quale fosse come dire la dimensione costituzionale dell'educazione e l'educazione viene intesa dalla costituzione almeno secondo la ricostruzione che ho fatto io ma è abbastanza condivisa come quell'attività finalizzata al conseguimento della propria personalità quindi dello sviluppo della propria personalità all'interno della società cioè a conseguire il fatto che tutti quanti possiamo convivere all'interno di una società multiculturale pluralista e tutto quanto mantenendo una nostra individualità ora dalla relazione che tu hai fatto emerge come le tecnologie hanno una doppia influenza proprio nella determinazione della personalità un'influenza interna e un'influenza esterna è esterna nel momento in cui c'è quello che tu chiamavi lo scardinamento dell'antropocentrismo è interna nel momento in cui il nostro profilo virtuale telematico diventa una protesi del nostro io fisico ora l'altra cosa che avevamo detto sull'educazione e che si ricollega a un'altra delle parole chiave di questo ciclo di incontri è che comunque l'educazione così come l'istruzione sono finalizzate al conseguimento meglio alla formazione di cittadini liberi e consapevoli ora il fatto che ci sia questa doppia influenza diventa un potenziale proprio perché anche io sono un tecnofilo quindi un potenziale problema ma di fatto c'è questo problema proprio nel al livello della formazione di cittadini liberi e consapevoli penso mi è capitato tempo fa di occuparmi di questioni in qualche modo affini perché abbiamo fatto con altri colleghi sempre di ambito costituzionalistico un volume sul rapporto tra organi costituzionali e web e io avevo scritto un contributo in cui tra le altre cose parlavo anche di quei due fenomeni conosciuti come bolla di filtraggio e camera dell'eco in realtà non sono proprio la stessa cosa ma insomma diciamo il risultato finale è molto simile nel senso che noi facciamo delle ricerche su internet in cui cerchiamo una certa cosa e avremo sempre più contenuti proposti che vanno nella direzione di quella ricerca che ho effettuato questo è un grande problema nella formazione di cittadini liberi e consapevoli perché se io faccio una ricerca sui no vax comincerò a leggere sempre più contenuti no vax e sempre meno si vax se io faccio una ricerca sul sovranismo comincerò a leggere sempre più contenuti sul pro sovranismo eccetera scusa vuoi intervenire sì il punto concordo benemente su quello che stai affermando ad esempio pensando proprio alla famosa bolla nella quale noi ci troviamo un po' tutti noi abbiamo costruito comunque nella quale ci troviamo il punto però è questo che ad esempio se noi dovessimo pensare ad un social network come instagram basato principalmente sull'immagine quindi sulla fotografia o comunque sul video tenderemo comunque a andare a seguire quelle che sono i nostri conoscenti le nostre relazioni diciamo dirette anche nel quotidiano o comunque tutto ciò che può gradarci che può piacerci o quello che è fonte di desiderio automaticamente l'algoritmo come dici tu ci darà un risponso che è quello di una sorta o di pace e tranquillità nel senso di dire ok vedi le persone la pensano come me allo stesso tempo oppure potrebbe andare ad indicarci cosa fare quindi ad aumentare quella che è la pressione sociale cioè desidero avere un determinato tipo di abbigliamento quella persona ce l'ha io non ce l'ho inizia una sorta di sfida e una sorta anche di di plagio di quello che è il soggetto stesso ma allo stesso tempo per indicare e ritornare all'elemento principale cioè quello dell'educazione il punto è proprio questo andare ad educare il soggetto la cittadinanza anche al saper condurre una ricerca cioè quali sono le fonti che io devo interpellare qual è l'oracolo al quale devo rivolgere la mia preghiera cioè se io mi recco a Delphi so esattamente quale sarà la divinità che mi risponderà così come noi dobbiamo riuscire ad educare e questo parlo non solo delle generazioni piccole cioè parlare delle elementari quindi di una cittadinanza che va dai 6 a 10 anni ma anche la fascia più adulta ha bisogno di una vera e propria educazione all'utilizzo delle fonti e per utilizzo delle fonti non mi riferisco non solo alla fonte digitale ma anche alla fonte di per sé di ricerca quella che sia cartacea quella che sia di un libro di un giornale quindi è questo uno dei primi elementi perché la fonte alla quale io rivolgo la mia domanda in molti casi è l'oracolo si chiama Google è un oracolo che mi conosce troppo bene tra l'altro forse proprio vogliamo dirla tutta più la popolazione di età adulta più servirebbe in realtà l'educazione perché la maggior parte dei contenuti fake news che mi vengono condiviti su Whatsapp mi vengono da ultra 50 anni ecco assolutamente sì e devo dirti anche l'osservazione del modo in cui vengono utilizzate le piattaforme io confido davvero con tutto il cuore con tutta la mia passione per questo lavoro nelle generazioni più giovani proprio perché ho notato che hanno un utilizzo anche dei social network molto più educativo di noi cioè li utilizzano anche come piattaforme di scambio di idee di contenuti di nuove tematiche pensiamo anche come sono sviluppate ad oggi tematiche sul genere sul corpo sulla sessualità sulla religione sul razzismo che probabilmente noi insomma mi permetto della mia generazione a 15 anni io non avevo le idee così chiare non avevo la possibilità di avere un pubblico con il quale confrontarmi quindi sì concordo con te con l'importanza probabilmente di educare innanzitutto le fasce di popolazione con età più avanzata dopodiché sai c'è c'è un c'è un grande problema al oltre che di educazione in in questo caso mi mi sentirei di dire anche di istruzione perché l'educazione ricomprende le istruzioni tu facevi l'esempio dell'app immuni no guardate il fatto perché io le cose che tu hai detto pur non essendo uno specialista di tecnologie le avevo capite informandomi sapevo perfettamente che quell'app non era per niente invasiva a livello dei dati addirittura non ti chiedevano manco nome e cognome quindi proprio era completamente è stata vista come una una minaccia ma nello stesso o pochi mesi dopo è uscita l'app cashback che è una delle app più invasive della della storia della tecnologia mondiale perché tu cioè penso che neanche paypal ha sia il numero delle nostre carte di credito che il nostro iban che il nostro codice fiscale e sono tutti i dati che poi sono condivisi con la pubblica amministrazione che voglio dire con potenziali conseguenze anche pesanti quella sono scaricata a tutti e non hanno visto questa grande minaccia quindi c'è una grande inconsapevolezza e chiudo con perché poi c'è oltre al problema dell'educazione in sé considerato c'è un problema più ampio nel senso che il concetto della democrazia si basa tutto su un elemento se vogliamo un'utopia un'utopia che però diciamo deve essere quantomeno una tendenza e cioè che il cittadino in quanto libero e consapevole siccome c'è il suffragio universale tutti possono partecipare alle decisioni eccetera eccetera effettui un controllo sui governanti ora nel momento in cui noi viviamo in un ambiente tecnologico con tutte le problematiche che dicevo prima non solo il controllo dei governanti effettuato dal cittadino rischia di essere ancora meno efficace di quanto non lo fosse prima ma si pone un altro problema che tu hai sfiorato all'inizio della tua relazione quando hai fatto riferimento a cosiddetto GAFAM quindi Google Amazon Facebook Apple Microsoft cioè al controllo dei cittadini sui governanti si sta forse si è già sostituito un controllo sui governanti fatto da quei cinque là beh pensiamo al caso Trump pensiamo al caso Trump guarda ma ancora di più io sono convinto che a un certo punto si porrà questo problema che ancora non si è posto ma se io sono un politico di spicco e ho una conversazione Facebook con la mia amante Facebook può ricattarmi assolutamente assolutamente qui rientrammo nel concetto poi di privacy che noi decidiamo totalmente di come dire il contratto vero e proprio che noi firmiamo nel momento in cui decidiamo di accedere a queste piattaforme contratti che nessuno legge è oggettivamente impossibile leggerli esatto però per tornare alla tecnofilia e poi lascio spazio agli interventi la la tecnologia la verità è che la tecnologia tutte queste cose qui e stavano pure prima perché pure prima noi cercamo di parlare con persone che la pensavano come noi pure prima i grandi imprenditori la tecnologia secondo me è un facilitatore nel senso che usata in un certo modo può essere un facilitatore di democrazia si pensi a tutti gli obblighi di trasparenza che sono imposti de facto oggi le pubbliche amministrazioni pubblicano su internet cose che una volta era difficilissimo ottenere ma anche di non democrazia faceva il caso della Cina quindi è veramente un tema che dal punto di vista educativo secondo me è il futuro dell'educazione e ciò detto se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda chiaramente può o scriverla in chat se funziona le scorse volte alle volte la chat non funzionava in tal caso apra il microfono e parli tranquillamente mentre aspetto che qualcuno prenda il coraggio io volevo fare una una domanda sciocca a Ilaria una mia curiosità perché quando io ho letto il titolo del suo intervento e ho letto società confessionale diciamo poi ho letto il contenuto dell'intervento dello scritto ho capito di che parlava ma leggendo il titolo avevo pensato a una cosa completamente diversa e allora la mia domanda è davvero una 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 curiosità no perché hai scelto la parola confessionale e dunque perché va beh mi sembrava siccome comunque diciamo il saggio e comunque queste ricerche sono state concepite prima del periodo anche pandemico no perché adesso molto probabilmente sarebbe anche diciamo fuori luogo parlare di società confessionale non farebbe neanche più diciamo scantore però di fatto mi piaceva diciamo mi sono rifatta praticamente a questo termine che ho utilizzato Bauman nel 2007 ed effettivamente Bauman ne parlava più in relazione ai social network cioè praticamente Facebook e Instagram che nascono praticamente proprio con l'obiettivo di mettere a nudo quello che è l'intimità cioè i pensieri più profondi anche perché comunque è da tenere presente che tipico c'è stata come dire una distorsione tra virgolette del concetto di intimità proprio mediata dalla società tecnologica e digitale perché mentre prima diciamo l'intimità fino a poco prima dell'avvento dei social network l'intimità era stata sessualizzata cioè veniva identificata soltanto con la sfera della corporeità e in particolare ma non tutta della corporeità solo della sessualità invece con i social network iperintimità si intende soprattutto l'intimità dei pensieri e l'intimità dei sentimenti attenzione che innanzitutto l'intimità quindi come dire il mettere a nudo che è tipico in realtà la letteratura parlava praticamente del self disclosure e dello sharing self disclosure come apertura del sé quindi ecco perché da di società confessionale appunto se io apro facebook a cosa stai pensando confessati confessati con lo schermo che è confessati con il mondo di fatto ecco non so se sì sì è chiarissimo in realtà avendo letto il saggio avevo già intuito che però ecco è un è un termine che mi ha colpito perché di fatto si tratta di una ridefinizione insomma noi la parola confessionale l'abbiamo sempre utilizzata nei confronti di una cosa completamente diversa cioè nell'ambito religioso forse visto che la genesi del termine risale a Bauman forse c'è anche un come dire un possibile problema originario di traduzione nel senso che già se l'avessero tradotto come confessionista ci sarebbe stato meno 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 problemi ambiguità mettiamola così meno ambiguità però da una parte è anche interessante quello che dice cioè perché il termine confessionale proprio perché rimanda ad un atto appunto di come dire vabbè che nell'ambito fosse religioso tra virgolette veniva proprio come come dire confessione appunto della propria intimità e anche di ciò di cui che non diresti mai a nessun altro però però questo è interessante perché il concetto di intimità per quanto faccia parte appunto della propria individualità che sia caratterizzata dall'io realità l'intimità implica proprio questa apertura implica un'apertura e questo comunque la psicanalisi appunto di stampo lacaniano ma anche la filosofia la fenomenologia francese ce lo dice cioè l'intimità dell'uomo funziona in modo che debba essere proprio condivisa ecco e questo potrebbe sembrare diciamo una contraddizione ma funzioniamo così è certo è molto interessante mi viene anche in mente ascoltando adesso le parole di Ilaria come in realtà probabilmente se normalmente anche con il retaggio storico dell'Italia insomma cattolica confessionale era proprio il chiudersi nel confessionare ed espiare insomma parlare dei propri peccati con un tramite che insomma nella figura del religioso era il tramite con la divinità quello che accade oggi forse selezioniamo il social network una delle grandi cinque compagnie come la nuova divinità alla quale confessare tutto quello che noi siamo quindi anche donare un'accezione molto infatti è molto interessante l'utilizzo di questa di questa scelta linguistica proprio per definire una società confessionale relativa al modo in cui ci approcciamo al social network quindi volendo portare questo ragionamento alle estreme conseguenze quindi con una chiara riduzione ad assurdum con con internet si stingono gli atei nel senso che esatto esatto qualcuno che ha qualche domanda anche mere curiosità insomma non sì sarebbe interessante ascoltare il punto di vista adesso non so che età hanno studentesse e studenti presenti miste miste ok ecco quindi avere anche un'altra opinione una critica anche rispetto a quanto esposto massimo buonasera come al solito rompo io siamo contentissimi perché è più anziano una domanda questo questa visione un po' orwelliana del del mondo ma noi abbiamo però degli strumenti diciamo di crittologia già lei il professor Grassi sta utilizzando uno schermo che cela la sua intimità potremmo utilizzare degli avatar ma posso anche io utilizzo Toro browser che cela la mia identità il mio ip domanda a tutti e due funzionano secondo voi queste cose hanno un senso Edman vuoi rispondere prima tu ok allora da un punto di vista prettamente tecnico ecco non sono un ingegnere quindi non scendo su questo piano perché purtroppo non me ne intendo sicuramente sono direi dei palliativi nel senso che ho utilizzato adesso ad esempio un'immagine scelta da me evocativa per il percorso che comunque vi ho esposto e va sicuramente a celare quella che è detto francamente la mia cameretta d'impanzia mi trovo in quella sede fisicamente però ecco non volevo che dato che questo video poi verrà caricato su youtube che questa stanza fosse passatemi il termine alla mercè della popolazione diciamo globale della sua pienezza per quanto riguarda tutto l'aspetto invece relativo al celare l'ip celare dati biometrici celare la posizione ecco in alcuni casi si tratta di elementi non così funzionali ad esempio uno smartphone anche nel momento in cui decidiamo di annullare il gps quindi spegnere quella possibilità con l'opzione dobbiamo ricordare che si collegherà comunque alle celle telefoniche e con una triangolazione descriverà esattamente o quasi il punto in cui ci troviamo quindi anche qui non si tratta tanto di una visione alla Orwell alla Bradbury comunque a tutto quello che è un mondo distopico che spesso ci spaventa dovete tener conto che la distopia è qualcosa che ci aiuta a non raggiungerla quindi Orwell in qualche modo ci ha detto facciamo attenzione non arrivate alla società di 1984 però allo stesso tempo dobbiamo essere più accorti probabilmente in quello che scegliamo di condividere quindi ritorniamo nuovamente dal punto di vista iniziale non per essere distruttivo o comunque un po' forse eccessivamente ecco mi definisco così unichilista attivo sicuramente non saranno i miei dati a cambiare le sorti del mondo quindi io sinceramente sono una persona che utilizza con attenzione quello che pubblica quello che condivide però facciamo attenzione perché ogni singolo dato che noi mettiamo in rete va ad alimentare quelle che sono le serie di progressione dei data lake disponibili per le grandi società e quindi ipoteticamente non in modo orwelliano ma per riuscire a condurre comunque dei flussi delle folle delle masse è qualcosa che è studiabile è possibile fare almeno dal mio punto di vista ora lascio la parola Ilaria Giuliano adesso subito a Ilaria un flashback perché poi c'è anche una domanda di Anita perché è un po' il paradosso del voto no se se tu vai a votare un voto in più un in meno che cosa cambia eppure no questa cosa è un po' per i dati personali poi considerate anche una una cosa la dico così in passant anche se ci dovrebbe ragionare molto di più il vero grande problema di internet a livello anche giuridico ma non solo è che è uno spazio incontrollabile noi parlavamo di indirizzi IP ora voi sapete che ci sono degli stati che vietano l'utilizzo di talune piattaforme oppure che differenziano tipo Netflix Netflix se vai in Francia c'ha alcune cose in Italia dopodiché riescono gli stati a controllare rispetto basta comprarsi una VPN a 2 euro al mese anzi noi di Roma 3 abbiamo la VPN di Ateneo quindi quando sto in Francia dalla mia compagna posso vedere la banca italiana di Netflix capito come dice Edmondo sono dei palliativi perché la verità è che è uno spazio incontrollabile questo è il grande problema Ilaria e poi Anita infatti anche io mi associo sia a quello che ha detto Edmondo che a quello che ha detto adesso Giuliano cioè praticamente ecco il grande problema etico è ritornare ad un uso responsabile che però questa responsabilità ritorni in mano al cittadino che chiaramente deve essere consapevole di quello che sta facendo perché il rischio è che appunto proprio per cioè nell'incontrollabilità si perde la responsabilità e invece di agire siamo agiti per cui attenzione che questo è molto pericoloso perché ritorniamo di nuovo ad una forma di dittatura ecco per dirla in termini politici sono molto d'accordo Anita buonasera a tutti allora una curiosità più che altro da utente mi chiedevo vista la velocità in cui la tecnologia insomma va avanti e considerando anche la sfera della nostra attività che ormai diciamo che è bella che è ampia rispetto a prima giuridicamente siamo tutelati laddove questa tecnologia supera tra virgolette i paletti che noi mettiamo attraverso i consensi o altro cioè nel senso la tecnologia corre lo sappiamo ma giuridicamente è difficile non so se vogliono dire qualcosa Edmondo Ilaria sul problema giuridico io dico solo una cosa il diciamo ci sono due piani uno è un piano che è prettamente politico e la verità è che la democrazia che è il migliore dei regimi possibili a eccezione di tutti gli altri ha un grande difetto strutturale strutturale il grande difetto strutturale è dato dal fatto che chi ricopre cariche rappresentative di governo quello che sia di norma ci rimane poco in quella carica e in ogni caso è sempre connotato da una certa precarietà sai che puoi non essere rieletto che puoi cadere al momento all'altro nel breve tempo o quantomeno nel potenziale breve tempo sai che molto probabilmente non riuscirai a portare avanti riforme di lungo periodo insegui sempre il consenso elettorale e quindi non ti occupi di queste cose quindi è chiaramente questo un problema eminentemente politico c'è poi un problema invece di cui poi si rincorre sempre si cercano forzature prima citavo il fatto che il diritto alla riservatezza noi lo facciamo discendere dall'articolo 15 della costituzione che fa riferimento alla corrispondenza cartacea visto che non c'è altro visto che l'eggiutatore non ha aggiornato c'era quella norma lì e ce l'azzecchiamo un po' a forza ma questo è un rincorrere gli eventi non è un disciplinarli non è un ordinarli e poi c'è un lato fattuale che è quello che dicevo prima è oggettivamente difficile disciplinare perché in realtà sfuggono completamente al controllo dello Stato ci sono aspetti sui quali si potrebbe incidere un po' di più questo sì ma dopodiché appunto tu metti un divieto legato all'indirizzo IP e tu camuffi l'indirizzo IP metti un divieto legato all'identità della persona che sta dietro lo schermo e tu camuffi l'identità della persona è molto difficile anche se uno si rivolge ora i cinque colossi di internet in realtà paradossalmente sono più facilmente controllabili cioè io perché sappiamo perfettamente chi sono dove stanno ci sono anche degli accordi fatti a livello internazionale o europeo per cui insomma io ho lavorato per un po' per esempio al garante della privacy se il garante della privacy chiede a facebook di eliminare un contenuto facebook lo elimina ok cioè da quel punto di vista poi se se non si fa di più è anche perché c'è chiaramente un forte intervento di lobbying nei confronti della politica per cui la politica anche potendo incidere di più non lo fa ma al di là di questi grandi cinque colossi la maggior parte delle persone virtuali dei fornitori di servizi che stanno su internet noi non sappiamo neanche dove stanno cioè non sappiamo neanche a chi rivolgersi e questo è chiaramente un enorme problema che rende comunque difficile disciplinare l'aspetto giuridico l'alternativa sarebbe un nuovo ordine mondiale in cui c'è un solo governo che controlla tutti ma lì veramente finiamo in Orwell quindi sono questioni complesse insomma Ilaria Edmondo non so se volete aggiungere qualcosa no io effettivamente mi unisco a quello che hai appena detto proprio perché il grande problema è che abbattendo tutti i confini quindi diventa c'è uno spazio incontrollato e anche gli attori basta la perte chi sono cioè questo è perché è proprio facile nascondersi o comunque camuffare la propria identità quindi è ovviamente mancando l'identità manca il concetto di responsabilità chiaramente come faccio ad imputare una pena a qualcuno che non so chi è esatto sì siamo nel contesto proprio mi viene in mente quello che indicava già Don Haraway dell'essere da un lato sentire l'occhio del satellite che è su di noi ma allo stesso tempo non avere la capacità di riconoscere a chi appartiene quell'occhio e questo non è solo riscontrabile rispetto a quella che è una navigazione classica della rete che abbiamo indicato sino ad ora pensiamo anche a quello che viene chiamato dark web quindi tutta una parte del web sottostante ad una navigazione classica dove in realtà entriamo nella piena illegalità e quindi noi non abbiamo fatto altro che abbattere i confini sicuramente tra digitale e passatevi nel termine l'analogico e in quel digitale abbiamo riversato però in un contesto italiano le possiamo definire le mafie le illegalità che sono presenti e purtroppo io credo da un punto di vista sociologico da un punto di vista filosofico purtroppo quello che è lo sviluppo l'ultra acceleramento tecnologico oramai sia molto più avanzato rispetto a quello che possa essere un imbrigliamento che è una parola che odio però da parte del soggetto umano della persona e quindi ci troviamo in una sorta di di territorio comune dove esistono delle leggi esistono delle norme ma allo stesso tempo vi sono tutta una serie di sotterfugi scappatoie elementi che ci fanno vivere al confine del legale a proposito di questo permettami poi di aggiungere una cosa che può sembrare un po' paradossale eppure sarebbe secondo me il caso di farci una ripressione seria noi anche se internet è la cosa tecnologicamente una delle cose tecnologicamente più avanzate che esistono al mondo e ha chiaramente sta cambiando ha già cambiato e cambierà ancora tutta la nostra società così come la conosciamo ma se invece noi consideriamo internet come un luogo virtuale come un come un mondo ok dal punto di vista come dire di di ere geologiche passatemi la metafora internet sta nella preistoria cioè o quantomeno nelle fasi iniziali questo fa sì che noi all'interno di internet questo o meglio legati al fenomeno internet assistiamo a tutta una una serie di di fenomeni che nella società fisica abbiamo già superato perché al al di là della possibilità per i singoli stati di incidere su giuridicamente su all'interno del mondo virtuale si è creato si sta creando di fatto si è già creato anche se ancora in fase embrionale un ordinamento giuridico di internet una serie di leggi di internet con una serie di persone che decidono anche chi ha ragione e chi ha torto i contenuti prima si citava il caso Trump e lì voglio dire a un a un certo punto la società facebook ha deciso che quel profilo andava sospeso perché c'erano contenuti inappropriati ora noi ci abbiamo messo secoli da dire più di un millennio per arrivare all'approdo secondo cui le decisioni devono essere assunte in condizioni di contraddittorio davanti a un giudice terzo e imparziale che abbia una formazione giuridica e che sia indipendente dal potere politico questa cosa qui lì neanche ci hanno pensato ok forse ci ci arriverà un giorno ma questo è chiaramente un problema legato anche all'immaturità voglio dire già se ci fossero delle leggi scritte se ci fossero dei processi di contraddittorio se ci fossero dei giuristi che conoscono quelle leggi e che possono applicarle già magari sarebbe sempre difficile controllare internet dall'esterno ma sarebbe più facile controllare dall'interno siamo ancora molto molto lontani da raggiungere però quella fase evolutiva lì insomma certo altri interventi lo prenderei come un no anche perché alla fine sono quasi due ore quindi probabilmente è anche giusto liberare i nostri due relatori insomma devo dire sono molto contento perché abbiamo chiuso col botto veramente due relazioni stra interessanti stra attuali e devo dire mi dispiace un po' di dover chiudere perché mi piacerebbe continuare a conversare con voi due ancora per molto tempo ma chissà che non so ne avremo modo ne avremo modo sicuramente dai creiamo altre occasioni per cui grazie davvero a Ilaria Magri no e a De Monno Grassi grazie a tutti quelli che ci sono stati a sentire grazie a tutti quelli che ci sentiranno in differita e buon proseguimento a tutti buonasera buonasera